Vosèi stanno Italiano Faccio, un maggior podcast di lingua italiana da America alla Cina e tambem la unica scuola online di italiano do Brasil che traslano spra Italia. Benvenuto, benvenuta, mi chiamo Ronaldo Siliveri, sono il tuo prof di italiano e nella nostra puntata di oggi ho un grandissimo, una grandissima infatti invitata e un enorme piacere di avere questa persona che per me, personalmente, è una persona molto speciale e che mi piace tantissimo, a cui ci tengo tanto. Benvenuta, professoressa Luizza Bozzetto. Grazie, grazie. Io e Ronaldo ci conosciamo già da un po', anche i nostri allievi ci conoscono già bene e è sempre un piacere rivedervi. Adesso che sono arrivata, non ero qua, non ho potuto registrare altre puntate ma sono contenta di esserci in questa, allora mi fa piacere. Era da tempo che volevamo registrare noi insieme e solo per spiegarvi un po', ragazzi Luizza praticamente lei vive in Italia, tra poco saprete dove, però lei c'è da tempo che non veniva in Brasile quindi non è stato possibile registrare i podcast che volevamo registrare. Comunque, sono molto felice di avverti con noi. Innanzitutto, cioè ti chiedo di presentarti parla un po' di te, cosa fai, di dove sei, dove vivi e tutto quanto. Bene, io mi chiamo Luizza, Luizza con la Z, allora diciamo Luizza, Luizza, Bozzetto Io sono insegnante d'italiano per stranieri, ho adesso 25 anni, vivo a Torino, nord Italia, nord est d'Italia in realtà, nord ovest d'Italia. Cosa faccio? Non lo so, cosa altro si dice quando si vuole presentare? L'insegnante di geografia sicuramente non è. No, 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 sono brava con la geografia però adesso mi sono facendo un po' di confusione. La mia famiglia viene dal nord est d'Italia però io abito nel nord ovest d'Italia, allora è quella la storia. Quindi i tuoi parenti, i tuoi antenati? Sono tutti veneti. Tutti polentoni. Ragazzi, è importante, faccio una premessa. Questo termine che ho utilizzato non è assolutamente un termine per me dispregiativo anzi è un termine per me carino, però purtroppo in alcuni contesti in Italia può essere utilizzato in contesti dispregiativi che non è assolutamente il caso. Cioè è importante dire, ribadisco sempre questa cosa. Sì, infatti c'è queste due parole, terrone e polentone. In realtà è sorta come una forma di insultare le persone del nord e del sud. Quelli del sud chiamavano quelli del nord i polentone perché appunto mangiavano molta polenta, la farina di mais eccetera e quelle del nord, le persone del nord prendevano in giro e insultavano le persone del sud come terrone perché appunto lavoravano la terra e tutto. Cioè era una parte dell'Italia meno sviluppata, diciamo. E lo è ancora oggi. Io per esempio sono di origini calabresi. Vabbè, per me non c'è nessun problema se uno mi chiama un terrone perché non c'entra nulla. Anche perché io con la terra non ci potrei mai lavorare. Ma certo, anzi è un motivo di onore, no? Sì. Allora, tu dicevi, tua famiglia c'è di origine del Veneto e cos'altro? Cioè io ho due parti, una parte della famiglia che sono i titon, ci vedi già da questo on che è Veneto, no? Perché i Veneti hanno questo one che è la e e diventa on. E allora ci sono i titon bozzetto. I bozzetto sono anche del Veneto, però la parte di mia madre che sono i virti, loro vengono da una parte dell'Italia, del Trentino Alto Adige, che prima non apparteneva all'Italia, appunto, all'impero austro-ungaro e tutto, austro-ungarico, scusate. E allora sono in teoria italiani, ma all'epoca non erano italiani, erano austriaci. No, e allora così. E quindi sei praticamente italiana da entrambi i lati. Sì, sì, il 95%, cioè ho il 5% di austriaco. Ok. Non è niente. Cioè una cosa che non hai detto è che sei un insegnante d'italiano. Sì, sì, l'ho detto prima. Sì, ma però comunque si capisce. Racconta un po' da quanto tempo fai questo lavoro e poi negli ultimi anni come si è sviluppata la tua carriera nell'ambito dell'istruzione, dell'insegnamento. Racconta un po'. Sembra una cosa un po' molto romantica, ma lo è. Io non ho molto scelto l'italiano, come lo sai, no? L'italiano un po' è arrivato nella mia vita e ci è rimasto. Esatto. Per caso non tanto, ma un po' per caso, ma sì, un po' per caso. Io ho studiato lettere qua in Brasile, ho studiato in Brasile all'Università Federale del Rio Grande do Sul. Ho studiato lettere e indirizzo in didattica, allora portoghese e italiano. E lavoravo con portoghese e produzione testuale in lingua portoghese. Dopo un po', nel 2019, ho cominciato a lavorare come insegnante di italiano, perché appunto il lavoro che facevo già con produzione testuale non mi piaceva così tanto. E a partire dal 2019 lavoro solo con italiano per i stranieri e lo amo. Cioè letteratura, cultura, linguistica, tutto, tutto quello che c'entra con l'Italia. Anche la geografia, anche se ho fatto un casino prima, sì. Allora lavoro sia con studenti brasiliani, ma anche con argentini, equatoriani. Ho già lavorato con alcuni migranti in Italia, come lo sai. Cioè migranti di parti diverse del mondo, sia, che ne so... Senegal. Ecco, Senegal. Medio Oriente. Esatto, esatto. E cos'altro, cos'altro... Lavoro sempre con lezioni di gruppo, private, tutto. E mi piace da morire, perché infatti è la mia cultura, no? È la cultura di molti dei nostri allievi, di molte delle persone che ci stanno ascoltando adesso, che hanno una famiglia di origine italiana e hanno questa cultura dentro, tra le... Nelle venne, diciamo, no? Perché passa da generazione a generazione questa cosa, sia aspetti culturali legati al cibo, che la lingua, che... modi di pensare, è molto curioso, ma mi piace veramente molto il lavoro che faccio, appunto, con gli studenti, perché da un punto di vista ho questa identificazione diretta con i miei studenti, no? Con i miei allievi e tutto. Certamente. E tu in Italia so che ci hai girato un bel po' e ci hai vissuto soprattutto in tre città talmente diverse tra di loro, quindi ti chiedo di parlare un po', cioè, della città dove vivi, naturalmente, e però anche di fare, non so, un resoconto delle principali differenze, quindi praticamente riscontrare queste città e fare un paragone. Sono tre città molto diverse tra di loro. Io, nel 2017, ho vissuto a Perugia, in Umbria, che è centro Italia, è il cuore verde d'Italia, è una città che si trova sopra una collina, no? È una città molto tranquilla, tutto. Poi, nel 2022, ho vissuto a Siena, già è ancora centro Italia, è Toscana, centro nord lì, vicino a Firenze, per chi non riconosce bene ancora la geografia italiana. Poi, oggi vivo a Torino. A Torino sono stata anche nel 2020, dove ho vissuto per tre mesi, più o meno, e oggi vivo ancora lì. Sono, cioè, Torino anche nord, no? Sono tre città molto diverse in tutti i sensi, parlando, ad esempio, di paesaggio. Torino, che è dove vivo oggi, è una città che ha molto a che fare con l'architettura anche francese, no? È una città più grande, non è quella città che quando pensi in Italia, le vie piccole, quella città medievale, che ne so, dei palazzi in pietra e tutto, non è quello. Torino è una città molto diversa, è molto legata all'architettura della Francia, se tu guardi, ad esempio, una città come Parigi, con le vie larghe, con grandi monumenti, ha più a che fare con Torino. Invece, Siena, sì, Siena è la classica città che tu pensi, Italia, vie piccole, medievale, un pochino più buie, no? Più scure, salite e discese, quelle grandi chiese, i mattoni rossi, esatto, esatto, i balconcini, quella cosa, l'immagine classica dell'Italia. E Perugia è una mescola, perché Perugia ha un centro storico, ci sono le porte, le mura, per chi non lo sa, in Italia le città medievali erano tutte fortificate, allora c'era la cinta muraria, che sono quelle grandi mura intorno alla città, e dentro c'era il centro storico, appunto, per protezione delle città, no? In caso di guerra, eccetera, ma anche di animali, tempo prima. E Perugia è così, Perugia allora ha questo centro che ha delle vie più strette, no? Con i mattoncini, con quella cosa, però ha anche lo spazio fuori, la città più moderna, diciamo, allora ci sono anche delle case, ci sono delle vie un pochino, però Perugia è anche, come Siena, è piena di salite, discese, tutto, perché si trovano lì, Perugia è veramente in mezzo agli appennini, allora veramente si trova tra due colline e tu sali e scendi, sali e scendi, sali e scendi. Io per arrivare a casa, che abitavo al quartiere Elce, mi ricordo, Via delle Olive, per andare a casa io dovevo, cioè uscivo dall'università, dovevo scendere una via, poi salire, poi salire una scalinata, passare sopra, scendere di nuovo e salire per arrivare a casa. Allora sì, invece Torino è una città molto più pianeggiante, no? Cioè tu puoi andare in bici, è ottima per chi ad esempio vuole vivere una vita in bici o in motorino, eccetera, perché non ci sono grandi salite, discese, niente, è tranquillissimo. In questo aspetto, perché di tranquilla è la meno tranquilla in realtà, sì, cioè è una città molto più urbana, mentre queste sono Perugia molto molto tranquilla, se tu vai lì in centro ad esempio a una città più calma, no? Non è piena di gente, ci sono dei negozi, c'è tutto quello che una persona vuole per vivere una vita tranquilla. Però appunto è una piccola città, non è una grande città. Invece Torino è, mi sa, la quarta, la quarta più grande d'Italia, il terzo o quarta? Quarta. La quarta più grande d'Italia. Sì, è difficile poi immaginare una città come Torino, che è sempre stata molto importante a livello strategico e anche a livello politico, perché è stata, se non sbaglio, la prima capitale d'Italia. Esatto, esatto, c'è anche quello, no? Quindi lì c'è sempre stata molta gente di potere e con questa influenza francese che è molto, si vede, no? Si respira quest'aria. Anche nel dialetto, no? In alcuni dialetti, o tutti i dialetti del Piemonte. No, i dialetti piemontesi hanno molto a che fare con quel francese. Nei suoni e tutto, e si sente anche che le persone, ad esempio, riescono a fare alcuni suoni che l'italiano medio, cioè che gli italiani in genere non riescono a fare come h, come alcune cose che loro fanno, perché appunto è presente nel dialetto piemontese. E anche, ma è buffo perché il Piemonte è curioso, è una mescola di tutte le cose, perché c'è la polca piemontese, ad esempio, che è una polca, e tu, cioè, è un genere molto particolare della zona, perché appunto siamo lì nelle Alpi e tutto, no? Ma da quello che hai detto, anche dal punto di vista storico e tutto, è molto diverso perché il centro Italia è sempre molto legato alla cosa della chiesa, no? Cioè, sia Siena c'è la banca, c'è il Duomo, tutto lì nel centro Italia era legato alla chiesa, era di appartenenza della chiesa, dallo stato papale e tutto, anche Perugia molto, c'è una storia di Perugia che è molto curiosa, che una volta eravamo a lezione e quando io ero lì noi studiavamo facendo delle lezioni in giro per la città. E allora la nostra professoressa ci raccontava delle cose particolari, no? Sulla storia di Perugia. E in una piazza, che c'è lì, alla piazza principale di Perugia, c'è un palazzo che tu vedi, ad esempio, che la finestra è tagliata a metà. E tu dici, ma perché la finestra è tagliata a metà? E lei dice, no, in realtà tutto il palazzo è stato tagliato a metà, perché quando il Papa veniva in città, no? Lì c'è il Duomo di Perugia, quando il Papa veniva in città, ah, lì al Duomo di Perugia c'è anche quello che dicono che sia l'anello di fidanzamento di Maria. E dicono che quando il Papa veniva in città, no? Lui veniva con un corteo, no? Venivano con quelle carrozze grandi e tutto. Però in quella via lì, essendo le vie molto strette, non passava il corteo del Papa. E allora il Papa ha ordinato che fosse tagliato il palazzo, cioè una parte del palazzo, per passare il suo corteo. Purtro che potesse passare. Esatto. Mamma mia. Ma è così. E allora si capisce, da queste storie si capisce molto l'influenza nel centro Italia della chiesa. Sì, della chiesa. Invece lì a Torino la situazione è già un po', cioè più legata alla politica che per carità non è che possiamo separare le due cose. Esatto. Però c'è più la cosa della nobiltà e tutto e un pochino meno della chiesa. Lì l'influenza del francese e della Francia è molto grande, appunto da tutti i lati, architetura come ho menzionato prima, ma anche a livello storico. Perché la famiglia dei Savoia, che è stata la prima famiglia reale italiana, no? Cioè con Vittorio Emanuele là, era una famiglia francese, no? E allora loro erano lì, vivevano appunto in quella zona tra le Alpi lì e tutto. Anzi, una parte della Francia era di proprietà loro, dove c'è oggi c'è Niz, no? Sì, Nizza. Ecco, che per gli italiani è Nizza, noi conosciamo come Niz, che è francese. Però gli italiani chiamano sempre Nizza perché Nizza appunto era parte del territorio italiano che è stato scambiato lì durante le guerre di unificazione. Ebbene, allora quello che accade è che loro hanno questa cultura molto legata anche alla Francia, tutte le abitudini, le famiglie, hanno sposato molte famiglie francesi e italiane e tutto. In realtà è confuso anche da spiegare perché non è che fosse o francesi o italiani, era una cosa, cioè era la famiglia Savoia, no? Era la dinastia Sabauda e punto, erano un po' francesi, un po' italiani, erano quello che erano. E da lì appunto il re Vittorio Emanuele è che ha organizzato con Garibaldi, con Cavour e tutto, tutta la sequenza delle guerre di unificazione. E grazie a quello che è stato creato il Regno d'Italia nel 61 là, poi si è aggiunta Roma, tutta quella cosa, perché appunto il centro non era parte dell'Italia nel 61, nel 1861, solo dieci anni dopo, con la breccia di Porta Pia. Ma qua entrebbe in storia, no? Dopo facciamo un podcast storico sulla storia d'Italia. Sì, è bello, sì. Poi naturalmente ci sono degli elementi importanti, no? Le guerre anche da parte di Giuseppe Garibaldi che ha avuto un ruolo importante in questo ambito naturalmente. Allora, tu hai scelto Torino per vivere. Sì. E se dovessi fare un paragone a livello di costi, perché naturalmente Torino è anche una città più sviluppata a livello industriale. Sì. Se parliamo di caffè, per esempio, no? Cioè Lavazza e tante altre cose sono di Torino, no? Anche il Martini, Martini che conosciamo noi, no? Il Bitter è di Torino. Ecco. E quindi ci sono tante cose che sono torinesi. E essendo una città, diciamo, più sviluppata, probabilmente sarà anche più costosa da vivere, più cara. Com'è? Non so, perché in realtà ci sono delle cose da considerare in questo calcolo. Perché, ad esempio, le città più piccole, volendo o non volendo, hanno meno appartamenti e cose da affittare, no? No. Da quello che vedo io, oggi, ad esempio, di queste tre città, Siena è quella col costo più alto, no? Perché è molto più turistica. Esatto, molto più turistica. Ci sono meno appartamenti, ad esempio, in affitto e tutto. E c'è da dire che c'è anche meno lavoro. Perché, se tu pensi a una grande città, c'è più gente, hanno bisogno di più servizi, hanno bisogno di più prodotti e tutto. Oggi il triangolo industriale italiano è lì, Genova, Torino, Milano, no? Allora, dentro questa zona lì, che è tutta nord, c'è tanto lavoro, ci sono tante fabbriche, appunto, c'è lo stabilimento della... La Fiat adesso si è spostata un po' in giù, in Basilicata, la fabbrica. Ma c'è ancora tutta la parte amministrativa della Fiat, c'è la Kinder, no? La Ferrero, la Vazza, boh, ci sono tante cose lì. Poi queste, di quelle più conosciute, no? Poi Milano, per carità, tutto il mercato della moda si trova lì. Allora, sì, lì c'è molto lavoro, allora diventa più facile trovarsi un lavoro se ci vivi. Grazie a questa cosa, in realtà, Torino era una città dove la gente andava a lavorare fuori nelle industrie e veniva a dormire. Allora, ci sono molti palazzi e tutto, però gli affitti costano, infatti. Cioè, io vedo che uno dei grandi problemi degli immigranti e anche degli italiani è trovare un affitto a un costo... Un prezzo giusto. Ok, esatto. Perché a prezzi contenuti neanche, perché non si può neanche dire perché costa molto l'affitto, è molto di più di quello che costa qua, ad esempio. Quello è un po' ovunque. Ecco, c'è una crisi, appunto, immobiliare. E' certo, e anche a livello di... ci sono molte agenzie che sfruttano dei centri storici, per esempio, a causa della grande richiesta a livello turistico. Ecco. Quindi questo è successo ed è evidente a Firenze, per esempio, perché non ci sono più fiorentini che vivono nel centro storico di Firenze, perché c'è impossibile. Praticamente hanno spostato tutti i cittadini locali in altre aree della città, purché potessero usare i centri storici come un mezzo di guadagnare più soldi. Quindi a Roma è un po' più difficile, perché ormai le cose, cioè i punti turistici sono un po' sparsi, quindi un po' più... Però comunque è un mercato immobiliare molto difficile da prevedere, da gestire e soprattutto per chi ha un lavoro, uno stipendio, non so, da 1200, 1300, 1400, è difficile pagare più della metà per un appartamento. No, se si vive, ad esempio, in due, tre è una storia, però se si vive da solo oppure si deve mantenere una famiglia con 1200, 1300, non ce la fai. Eh, infatti. E questa è una cosa poi difficile, quindi lasciamo stare questo argomento, perché ormai è una cosa... Ecco. No, ma appunto è... Penso che dal punto di vista di costo di vita, Perugia sia quella più... Dell'affito la più economica tra le tre. No, trovi delle cose carine, però è difficile da trovare sicuramente, cioè soprattutto grandi appartamenti, trovi bilocali, massimo trilocali, però se cerchi trovi delle cose carine, è un prezzo ok. Ok, ma appunto si entra sempre in quella cosa, perché è un problema questo degli affiti, perché poi ci sono adesso molte di queste piattaforme, tipo Airbnb, la persona guadagna molto di più affitando a giornata, no? Su Airbnb e tutto, eh? E poi c'è... Io sento molto dai proprietari che non c'è molto una tutela sui... No. Sui diritti e tutto dei proprietari, no? Se tu non puoi sfrattare qualcuno di casa se, ad esempio, la coppia o a un bambino, ad esempio, non puoi fare niente. E allora si entra in un lungo processo e tutto. Per questo loro chiedono sempre delle garanzie, contatto di lavoro, tempo indeterminato. Però, sì, penso che dal punto di vista questo del costo, Torino sia una città ok. Tra quelle... Roma io già penso sia costosissima, ad esempio, da affitare e tutto. Il lavoro si trova, sicuramente è la capitale d'Italia, però forse nell'industria un po' di meno. Torino, Milano è costosissima dal punto di vista dell'affito, della vita, tutto. Allora io ritengo Torino una bella alternativa, così, di costo di vita e possibilità di lavoro e tutto. Quindi il rapporto costo, qualità di vita, opportunità di lavoro. Sì, esatto. Sì, perché poi Perugia è anche un po' spostata, quindi non è che sei tanto... sei centrale, ma non tanto, non è che è tanto... Esatto, per andare, ad esempio, ah, voglio conoscere il Sud Italia, parti da Perugia, prendi un treno, vai a Bari, vai a Tormina, vai dove vuoi. No, è tutto la stessa distanza, più o meno. Però c'è da dire che, ad esempio, se tu hai bisogno di un aereo, vuoi conoscere anche altri paesi europei, partendo da Torino, cioè hai l'aeroporto Sandro Pertini lì, con tanti voli ogni giorno, è più pratico. No, allora io veramente, cioè se dovessi scegliere un'altra città italiana dove vivere, non so dove andrei. Cioè io pensando alla mia situazione, alla mia condizione, solo se fosse per passare un tempo in qualche altra città più tranquilla per, che ne so, stare più in campagna, un pochino, un luogo un pochino meno urbano e tutto, ma per delle famiglie, per dei giovani, beh, per lavoro, secondo me Torino è una scelta più che giusta. Molto, sì, molto conveniente. Anche a livello di comodità, comoda, perché c'hai tutti i servizi. Esatto, esatto, io vivo lì nel quartiere Santa Rita e boh, ci sono autobus, tram, c'è treno, c'è aeroporto, esci da casa, ci sono 3-4 supermercati in un raggio piccolissimo, ci sono dei parchi alla città con più alberi d'Italia, cioè la città con più parchi d'Italia, allora anche per vivere all'aria aperta, è tranquilla, cioè per me è una città meravigliosa, io l'adoro, non posso dire niente perché... Io, ragazzi, devo dirvi una cosa, io ho usato il termine conveniente, però questa parola, infatti, conveniente, è una cosa conveniente, è una cosa che conviene nell'ambito a livello finanziario e economico, quindi è conveniente, significa che il prezzo è giusto, il prezzo è buono, se io voglio dire che una cosa è buona nel senso di, guarda, è una città dove io vivrei, è una città conveniente, In italiano è meglio dire che è una città comoda, è una città a portata di mano, forse. Ecco, che presenta molti servizi, no? Esatto. Cioè, è ben fornita. Sì, quindi la parola conveniente in italiano non è che conviene in tutti i sensi, a livello economico. Guarda, questo telefono è conveniente, cioè costa poco. Non c'è la pubblicità, c'è una pubblicità di lì. Sì, la convenienza sta a portata di mano. Eh, no, la scelta che conviene. Sì, la scelta che conviene. Ecco, di Lidl. Lidl, che è un supermercato italiano. Ecco. Allora, Luisa, io ti ringrazio per questi chiarimenti che hai fatto e che riguardano appunto tre città italiane, che c'è una molto turistica, Siena, no? Che si trova in Toscana, dove c'è un turismo naturalmente molto alto. Torino, che è una città ormai, anche se importante, un po' sconosciuta dai turisti, perché non tutti hanno Torino tra le cinque o tra le dieci città italiane da visitare. Ecco. E lo dico per esperienza propria. Io, per esempio, ci ho messo tantissimo tempo dopo aver conosciuto, cioè, la Calabria, la Sicilia, la Basilicata, la Puglia. Cioè, ho conosciuto tutte quelle regioni prima ancora di conoscere Torino. E un po' mi vergogno a dirlo, naturalmente. Però comunque è importante. Quindi abbiamo fatto un paragone tra Siena, Torino e Perugia, che ha anche, cioè, Assisi, che è molto famosa lì vicino. Allora, ti chiedo di lasciare un messaggio finale ai nostri ascoltatori che stanno seguendo questa puntata. Ma ragazzi, mi raccomando, se potete andare in Italia e visitare questi tre posti, sono posti fantastici. Lì, a Perugia, se partite, ad esempio, da Roma, subito siete lì, potete prendere un treno. C'è vicino Assisi, c'è Spoletto, ci sono tanti posti carini da visitare. E Perugia ha una preziosità, che è la Rocca Paulina, è da visitare assolutamente. Allora è una città tranquilla, dove potete stare lì per uno o due giorni e ammirare tutti i paesaggi. Si vede dalle colline, dalle piazze, tutte le colline, tutti gli appennini, è bellissimo. Poi, Siena, anche assolutamente da visitare. Se si va a Firenze, che ne so, a due passi sei a Siena, prendi un treno. Ed è una città fantastica, anche molto. Mia mamma non c'era mai stata e quando è andata a fare un giro, a stare un paio di giorni da me, ha detto, è la mia città preferita d'Italia, io l'adoro. Allora è veramente fantastica e sorprendente, anche per la cultura. Ci sono tanti musei, tante cose buone anche da mangiare, perché siamo in Toscana e in Toscana si mangia bene. E Torino, ci tengo a dire che anche a me, mi vergogno oggi di dire che nel 2017, quando mi hanno detto, Luisa, andiamo a Torino, ha detto, ma che cavolo è Torino? Io non so, non ho mai sentito parlare di Torino, perché sentiamo molto parlare di Roma, di Firenze, di Venezia, anche Napoli. Però ci scappa Torino, è una città con tante, 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 tante cose belle da vedere e anche preciosissima dal punto di vista storico e culturale. Allora restano qua i miei consigli, i miei suggerimenti. E niente, vi ringrazio tantissimo, ci vediamo anche in altre puntate. E chissà se torneremo a parlare ancora di Torino, ma se qualcuno viene a Torino, sarà un piacere parlarne di persona, prendendo un caffè, allora invito a tutti. Certamente. Sì, devo dire, io sono stato a Torino da poco, sono stato con Diane, e siamo stati trattati benissimo da Luisa che ha organizzato un tour in cui abbiamo potuto vedere un po' della città e anche siamo stati al Caffè Bicerin, che è una location, parlo come milanese, una location importante, c'è un locale carinissimo. Ecco, del 1723. Mamma mia. Sì. Ah, adesso ho compiuto 300 anni. Sì, più di 300 anni. Il 1723, ecco. Appunto. Ecco, da visitare. Sicuramente faranno qualcosa per l'anniversario di 300 anni. Esatto. Perfetto, grazie mille Luisa. Grazie a te, grazie ragazzi. Grazie ai nostri ascoltatori. E se você ouviu um podcast do Italiano Fácil, o maior podcast de lingua italiana da América Latina. E se você gostaria de aprender com professores experientes, professores formados na Itália, essa é a sua oportunidade. Acesse www.italianofácil.com e descubra as nossas formações. Também estamos no Instagram, arroba italianofácil, com aulas diárias e conteúdos para você melhorar o seu nível de italiano. Un saluto grandissimo e alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.